Il convegno di oggi parla di opportunità, stiamo parlando di dove andremo come Veneto del futuro, dove va l'Italia del futuro. E allora se il mondo si muove, il mondo ha coraggio, noi non possiamo pensare di essere fermi a politiche e modi di 50 anni fa. Allora quando un mecenate decide di investire in Veneto, decide di investire qualche miliardo di euro in una zona compromessa come Marghera, quando il Veneto, la regione, quando la comunità veneziana e il sindaco, quando Marghera stessa per la prima volta approva la voglia di cambiare Marghera e di investire in innovazione, in ricerca, in cultura, in università. Quando tutti noi pensiamo che il mondo cammini, beh, che una cosa che si chiama ENAC, già il nome dice tutto, nominata dal Parlamento, che è un presidente che non so chi sia, non dia una deroga per fare un accordo degli anni, mi parla una cosa antistorica. Io credo che quando hanno fatto la Torre Eiffel, oggi a Londra fanno il grattacieli più alto d'Europa, a Parigi hanno fatto la Defense, che è una realtà piena di grattacieli. Quando si guarda il futuro, trovarmi un ENAC che è morta nel passato mi crea francamente maressere. Spero che sia un atto provvisorio, spero che si possa tornare sul ragionamento, spero che la parola deroga, intelligente, prenda anche le persone nominate da qualcuno, altrimenti io credo che non solo facciamo un passo indietro, ma non guardiamo il futuro. Ma se l'Italia è quella, probabilmente quando parliamo di riforme, è troppo poco quello che stiamo facendo. Quale tema non è chiudere aziende, è spazzar via un mondo vecchio che sta ingessando il nostro futuro.